Una volta vedevamo tutta Betlemme, c'era una vista meravigliosa da qui. Per parlare dei cristiani di Terra Santa oggi, Terra Santa, ma poi tutto il Medio Oriente, è parlare anche di una situazione di grande e estrema difficoltà. Il Medio Oriente basta guardare cosa sta accadendo ai cristiani, che sono fratelli e compagni dei cristiani di Terra Santa, quello che sta accadendo in Siria, in Iraq, anche in Libano, negli enormi campi profughi, la guerra che sta colpendo tutte le famiglie. E anche qui in Terra Santa abbiamo assistito l'estate scorsa alla guerra di Gaza. Grazie per la visione!